Bentornati e una delle novità è che Citroen ha ingaggiato l'atleta Silvia Bertagna per far parte del suo Unconventional Team. Vediamo di cosa si tratta. Citroen Unconventional, il team di atleti che per personalità e stile di vita primeggiano nei loro sport e interpretano perfettamente i valori del marchio francese, be different, feel good, da oggi comprende anche una presenza femminile, Silvia Bertagna, in rappresentanza di un altro sport, lo sci freestyle, di cui è la migliore esponente italiana. Silvia è un talento autentico, solare e determinata, freestyler nell'animo e Unconventional nello spirito. Alto a tesina puro sangue, risiede a Ortisei, a pochi metri dalle piste da sci. Ha cominciato a sciare da piccola e il freestyle nella sua vita è arrivato al compimento della maggiore età. Dai primi salti a bordo pista e negli snow park della Val Gardena e dell'Alpe di Siusi, alle competizioni internazionali il passo però è stato talmente breve da farla diventare subito l'unica donna italiana a gareggiare nel circuito di Coppa del Mondo. Silvia è specializzata nello slope style, dove si è qualificata ottava alle ultime Olimpiadi, che consiste nell'effettuare salti e acrobazie, lungo una pista in discesa con rampe, ringhiere e ostacoli. Prattica con successo anche Big Air nel salto singolo, durante questa stagione ha conquistato il quarto posto al Big Air di Milano e il primo a quello di Mockingradbach in Germania.